Care spose e cari sposi, quest'oggi parliamo di qualcosa di molto molto interessante per il giorno delle vostre nozze il servizio fotografico per fare questo non sono da sola, sono qui con un'esperta, un'amica, una collega e una professionista Linda Marengo, responsabile del dipartimento foto e videomaker di matrimonio.com e anche fotografa specializzata in matrimoni Ciao Linda, benvenuta Ciao, grazie per avermi invitato Grazie a te per essere qua e non lasciarmi da sola Allora, iniziamo subito, rompiamo il ghiaccio con quali sono i trucchi per venire bene in foto? Allora, diciamola il segreto di base è quello di sentirsi sempre a nostro agio Sì, che in foto è impossibile No, no, possibile no, ci possiamo arrivare Però, per esempio, uno dei trucchi principali che si può fare anche, che adesso viviamo nell'era del cellulare dei telefonini, delle foto e quindi dei selfie è cercare sempre di evitare le foto dal basso verso l'alto perché altrimenti rischiamo di venire tipo col faccione, no? Cercare sempre di essere un pochino più sopra L'inquadratura Però un bravo fotografo sicuramente lo sa e quindi ci può aiutare a venire bene in foto Si può anche effettuare nei matrimoni perché è sempre meglio, anche di poco, però salire un po' sopra la linea retta che sotto Chiaro, chiaro. E la luce che ruolo ha in tutto questo? Allora, la luce è fondamentale, come si dice sempre la luce comanda, quindi decide tutto lei Quindi noi consigliamo sempre la luce in diagonale Quindi non a caso si chiama la luce d'oro, la luce dorata Golden light Esatto, quindi consigliamo sempre o l'alba o il tramonto Ok Si tratta di matrimoni, difficilmente possiamo far svegliare gli sposi alle tre di notte per la preparazione, per avere poi l'ora giusta E la luce perfetta All'alba e quindi meglio il tramonto Ok, ok, beh, foto romantica, il tramonto Sicuramente una bellissima occasione, uno scenario veramente interessante Detto questo, abbiamo parlato trucchi per venire bene in foto, l'inquadratura Poi la luce perfetta per essere bellissimi E trucchi ancora per essere rilassati davanti all'obiettivo Allora, il consiglio principale è quello di conoscere la persona che ci sta facendo la foto Quindi questo aiuta molto il cliente, in questo caso la coppia, a rilassarsi molto E quindi cerchiamo sempre di conoscerli prima Ok Magari ci facciamo un paio di aperitivi, un paio di caffè In maniera tale che il giorno del matrimonio siamo un po' più amici Quindi loro sono molto più rilassati Poi magari ci giochiamo, facciamo la battuta e loro si rilassano Quindi entri in empatia con il tuo, tra virgolette, cliente, con la coppia di sposi Sempre In modo da farli sentire al loro agio Sì, è fondamentale, perché poi nelle foto, nel risultato poi si vedrà Là, che sono più naturali Sì Ok, quindi spose, sposi, ricordatevi di andarvi a prendere un aperitivo, un caffè con i vostri fotografi Ok, senti, ci sono magari degli accessori, dei colori, uno stile particolare che si può consigliare ad una coppia di sposi che sceglie di fare la sessione prematrimoniale? Allora, quello che consiglio sempre alle mie coppie è che siano sempre se stessi Quindi se è una coppia stravagante che venga con vestiti stravaganti Se è una coppia più tranquilla, più semplice Però l'importante è che si sentano proprio al loro agio come sono realmente L'unico consiglio che do, magari essendo due persone che non cozzino molto i colori o le fantasie Perché altrimenti, insomma Quindi chi somiglia si piglia, speriamo anche nel look e nella scelta al momento del prematrimoniale Ok, senti, è meglio stare fermi o muoversi durante un servizio fotografico? Anche questo dipende dalla natura della persona Se è una persona tipo argento vivo addosso, inquieta, che sia inquieto anche da fronte alla camera L'importante è che sia se stesso Se è una persona semplice, tranquilla, va benissimo Di certo non gli faccio ballare il twist Perché no? Poi magari bravura vostra Ok, restiamo in tema prematrimoniale L'ambientazione, la location, come si sceglie? Allora, io sempre mi confronto con i clienti Dove anche lì si sentono molto al loro agio Perché questo per me è fondamentale Però do sempre dei consigli Sempre tre ambient differenti Tipo l'urban, quindi nelle strade Magari il centro storico di una piccola città, eccetera Oppure un parco, quindi un torno verde Magari con un laghetto, eccetera O la spiaggia, che è una delle più belle Allora del tramonto Però lì entra un pochino in gioco anche la scelta del giorno dello shooting Perché se lo fanno a luglio, agosto Ma anche a fine giugno Le spiagge normalmente, a meno che non sia un'isola deserta Piena di gente Esatto, esatto, noi dobbiamo stare attenti che ci sia meno persone possibili Anche perché loro si possono sentire a loro agio Però immagino che nel vostro essere dei professionisti Siate anche in grado di dare i consigli più giusti Di consigliare le coppie nella loro scelta perfetta Ma leggiamo anche spiagge senza persone Sì, sì, e comparse nel caso servano E torniamo invece al servizio fotografico il giorno delle nozze Qual è lo stile adesso più trendy, più di moda Nel servizio fotografico il giorno del matrimonio? Allora, abbiamo notato che c'è sempre una ricerca più alla naturalezza Quindi alla semplicità e a essere se stessi Quindi a reportage, sostanzialmente Quindi sempre più coppie ho notato che tendono a chiedermi di non sentirsi fotografati Quindi non quelle foto in posa che siamo abituati magari a parte la classica fuori dalla chiesa Che tutti aspettiamo, no? Foto di gruppo Cioè foto di gruppo Non mancheranno mai Esatto No, però a parte quelle, specialmente nella sessione You and Me Che è il momento dove appunto Gli Alex siamo comunque, ci dedichiamo molto al foto reportage Quindi durante il matrimonio Alex il socio di Boda Trailer appunto E durante il matrimonio succedono sempre degli avvenimenti Quindi noi siamo i testimoni fotografici di quello che succede Ma al momento della sessione You and Me Che dopo la cerimonia che prendiamo gli sposi 20 minuti, li facciamo le foto di gruppo Un classico Lì dicono, cosa faccio? Eh Perché è il momento che Quindi cerchiamo sempre di evitare il posato anche lì Dandoli tipo delle linee guida Come muoversi eccetera Però sempre che possano emergere le emozioni Chiaro Perché alla fine è quello che una persona dopo tanto tempo Anche dopo il matrimonio Vuole rivivere Vuole rivivere Esatto E quindi qua si chiude il ciclo Perché torniamo appunto al discorso di prima Per cui la relazione che instaurate col vostro fotografo Questo entrare in empatia Alla fine poi vi aiuterà ad essere più sciolti E più Esatto Linda grazie davvero Consigli utili Speriamo che siano stati utili anche per voi E come sempre Se vi è piaciuto questo video Non dovete fare altro che iscrivervi al canale di matrimonio.com E ovviamente mettere like Ciao 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 Grazie.